buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi parla di ricchezza dottore come posso fare per diventare ricco bene io non ho la ricetta magica però ti posso garantire che anche la ricchezza aggiungo materiale spirituale proviene da qui dal tuo subcosciente dal tuo pilota automatico che tu ci creda o no d'accordo è un discorso anche quello subconscio per cui se tu vuoi veramente dare cambiare il tuo destino perché parti povero come sono partito io tantissimi e anni fa puoi utilizzare l'ipnosi dcs vera e professionale sembra che ricadiamo sempre lì perché l'ipnosi dcs vera e professionale è la chiave per entrare nel tuo subconscio e convincere educare programmare dice qualche guru per cambiare canale per attirare la ricchezza ma non come fanno i guru bla bla la fuori che parlano parlano bla 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 e poi nessuno diventa nel ricco ne sta agiato economicamente perché non lo diventa perché parlano la parte sbagliata della mente e soprattutto utilizzano dei metodi che non fanno veramente avere risultati perenni perché non sono neanche loro diventati ricchi come fai a trasmettere inconsciamente certi valori per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare azione provare anche con un solo audio mp3 dcs come ad esempio ego entusiasmo e capire di cosa sto parlando dopodiché se rispetti le istruzioni molto facili alla prova di un anno alla prova di un piccolo alla prova di un idiota scrivimi e vedremo il seguito però ti posso garantire che funziona ragazzi funziona anche i soldi la ricchezza la pace la gioia la voglia di vivere dipendono sempre dal tuo subcosciente lo so che ne a scuola nelle università tutto il mondo nessuno parla di certi temi perché sono scomodi perché più sei e ai dei limiti più possono manipolarti anch'io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca la pensavo come te pensavo al destino al fatto che tutto fosse già stato scritto che non si potesse fare nulla ero apatico depresso stressato incazzato nervoso con il mondo ho fatto mille lavori umili ragazzi come scritto anche nel mio libro però grazie a dio qualcosa è scattato in me nel 2008 dal correre sono passato a volare con l'ipnosi dcs vera professionale di los angers baby rils che poi diventato il mio metodo io sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza h24 da più di 12 anni e anche questo momento sono ipnotizzato anche se non sembra o sembra d'accordo fammi tutte le domande del caso risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e impegni visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto-ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs dottor claudio saracino un bacio abbraccio alla prossima ciao